ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 allora come avete visto oggi non è uscito il video sul canale principale e diciamo ci sono due motivazioni allora la prima è che come sapete da un po di tempo sto cercando di portare video fatti un po meglio rispetto ai precedenti insomma e e questo video qui in particolare è abbastanza complesso da editare perché ho tante clip di giornate diverse da mettere insieme e diciamo in modo che sia bello dal punto di vista narrativo e inoltre la seconda cosa è che abbiamo avuto tanto lavoro da fare e le giornate di pasqua e pasquetta ho preferito insomma a passarle rispettivamente con parenti ed amici perché altrimenti avrei dovuto editare per un sacco di tempo il video e quindi diciamo non avrei avuto altro tempo disponibile e niente comunque adesso probabilmente lo caricherò o martedì prossimo cioè martedì prossimo sicuramente forse anche prima però sto valutando insomma quando farlo uscire perché ottengo la programmazione settimanale ogni martedì e se no potrei fare come fanno alcuni youtuber quindi caricare il video quando è effettivamente fatto bene e ce l'hanno pronto ecco però penso di mantenere ogni martedì ecco fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti e va bene dai ragazzi io vi saluto oggi siamo andati a portare gli ulivi come stiamo facendo insomma durante questo periodo è uscito anche il sole prima c'era nuvoloso e va bene dai ragazzi io vi saluto tutti quanti buona serata a tutti